Non potranno essere rimodulati per investimenti sulla banda ultralarga i fondi europei non spesi del piano di sviluppo rurale 2014-2020. La Commissione europea ha risposto no alla Regione Umbria che chiedeva di spostare una parte di quei fondi ritenuti sovrabbondanti rispetto alle esigenze reali su un settore dove ancora si deve e può fare molto nella Regione. Il no della UE ha costretto dunque il tavolo verde che riunisce tutte le associazioni rappresentative del mondo agricolo a rivedere i suoi piani decidendo di ridistribuire i 36 milioni di euro disponibili su progetti di filiera agricola. Sono modifiche significative che ci auguriamo possono trovare il consenso della Commissione e qualora tutto dovesse andare per il verso giusto metteremo in campo maggiori risorse sul fronte degli investimenti e porteremo avanti e a completamento il progetto delle filiere completando quella del nocciolo e aprendo anche quella dell'olio. Anche in virtù delle esigenze espresse al tavolo verde si è deciso di prorogare la scadenza del bando sulle misure 4.1 investimenti in prese agricole, 4.2 trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 6.1 investimenti giovani in agricoltura che avrebbero dovuto chiudersi il prossimo 31 luglio fino al prossimo 18 dicembre. Quanto agli effetti negativi sull'economia agricola determinati dal Covid, un nuovo regolamento comunitario ha introdotto la possibilità di indennizzare le imprese agricole che svolgono anche attività di agriturismo e l'assessore Morroni ha annunciato l'intenzione di definire un indennizzo forfettario che realisticamente potrebbe arrivare alle aziende entro la metà 2021.